La Toscana sarà zona rossa fino a sabato, da domenica arancione, così il presidente della regione Gianni, che ha parlato con il ministro Speranza. Il nuovo DPCM, continua il governatore, riproduce quel che c'era nel precedente. Rispetto a quello però, in cui per risalire le zone ci volevano 14 giorni, in questa bozza si consente anche una distanza di giorni inferiore, se i dati sono buoni e il gruppo di lavoro del Comitato Tecnico Scientifico ne prende atto. Gianni ha quindi detto che la Toscana potrebbe diventare gialla già dal 13. Sul fronte contagi, la buona notizia è che diminuiscono i ricoverati nei posti letto Covid. Sono 46 meno di ieri, 254 da una settimana, per un totale di 1739, con un solo ingresso in terapia intensiva. Così il presidio del Mugello torna a essere Covid-free e posti letto da riconvertire no Covid a Torregalli e Pontianniccheri. Oggi si registrano 38 nuovi decessi, 21 uomini e 17 donne, con un'età media di 79 anni. 2.756 i morti dall'inizio dell'epidemia, di cui 1.000 nella sola Firenze. 929 sono i nuovi positivi, con un'età media di 50 anni. In testa Firenze con 197, all'ultimo posto Grosseto con 28.